come se dovessi spiegare Twitch a tua nonna e di base Twitch a differenza di YouTube con Morgan una roba un po' più privata un appartamento comunque le birre potete portare dovete nel senso questa si taglia però tredicesimo episodio di Molecole Digitali con Simone Panetti che so io esatto che è lui quello un po' stempiato un po' stempiato ma che cozzalone in testa una cicatrice è piuttosto evidente che dopo magari ci racconterai come è avvenuta è un topic è un creator di Twitch uno dei più seguiti in Italia si fra i top 15 300.000 follower non so quando uscirà l'episodio magari saranno speriamo 400.000 spero io lo speriamo tutti ce lo auguriamo tutti come ti descriveresti a parte l'etichetta creator o streamer di Twitch che fai? un pischello nel 712 proprio personale come se dovessi io mi ricordo su MTV davano le robe degli appuntamenti tu ricordi? MTV era? tipo chiamate non mi ricordo tipo roba dove dicevano ah sono Simone ho 24 anni vengo da Roma e le donne dovrebbero chiamarmi perché due punti capito? Simone perché dovrebbero chiamarti le donne? io sono Simone ho 24 anni vengo da Roma vivo a Milano da un paio d'anni appunto da quando ho iniziato a fare lo streamer e le donne dovrebbero chiamarmi perché sono un creativo un simpaticone e ho tanto da dare sicuramente non per la chioma fluente e quindi diciamo che sei uno dei streamer di Twitch più seguiti sì 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 in Italia comunque diciamo stai nella top 5 sì 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 sono uno di quelli che c'è c'è Magna ok facciamo diciamo esattamente infatti ti volevo proprio chiedere a proposito come funzionava un po' Twitch e perché ti eri affacciato a questa piattaforma e proprio scegliendo appunto Twitch in particolare è come se dovessi spiegare Twitch a tua nonna di una roba del genere perché secondo me Twitch se ne parla ma io sono sicuro che 9 persone su 10 soprattutto di una fascia di età alta non sanno proprio sanno che tipo YouTube secondo me sì sì infatti ogni volta che devo spiegare è sempre complicato fargli capire un attimo tipo che fai lavori su internet fai video no è un po' più complicato sì poi molti ti dicono lo YouTuber appunto però in realtà è super differente e spiegaci un po' The Base io ho iniziato non ero troppo fan dei Twitch però seguivo un po' e ho già capito un po' l'ambiente e abbiamo iniziato io e Andrea Omietol sì sì un altro dei noti carissimo amico da anni proprio da quando eravamo piccoletti e abbiamo iniziato con un'idea che era quella del fa live in giro per strada col telefono con la cassa dove i fan The Base potevano parlare tramite la cassa che era un'idea incredibile che facevano già in America e abbiamo detto perché nessuno lo fa in Italia lo famo noi perciò abbiamo iniziato così ci ha avuto successo il format perché faceva super ride e da lì poi ho iniziato a pensare vabbè magari potremmo fare pure da casa è diventato effettivamente un format quello che faccio tutti i giorni The Base Twitch a differenza di YouTube conosciamo tutti quanti che so te che carichi video tu sei live e rimanere live e intrattenere live è differente come appunto dicevo un comico che sta sul palco davanti a un tot di persone sedute devi sapere intrattenere al momento non puoi fatte sfuggire niente perché essendo live c'è anche l'imprevisto di video sa quello che dici come lo fai perciò The Base Twitch è questo intrattenimento live sì pure la monetizzazione è completamente diversa no? sì sì anche YouTube ha implementato gli abbonamenti su Twitch già c'è stavano la gente può abbonarsi al canale il vantaggio è che non vedi le pubblicità e poi i vantaggi se li decide lo streamer il proprietario del canale quindi di base ci stanno vedendo un po' pure i tuoi video ci stanno varie cose che puoi fare oltre l'abbonamento oppure mandare la donazione che è un po' fine a se stessa la donazione è più per supportare lo streamer perché tu dici magari oh guarda voglio fare sta cosa però mi servono dei soldi per comprare il pc e quindi la gente tu metti il gol da zero a mille la gente se vuole dona però di base la donazione funziona sempre lo streamer poi date dell'intrattenimento a te stesso perché tu dici ok la donazione però però attraverso la donazione c'era anche il fatto di poter parlare attraverso lo speaker sì sì chiaro se tu doni un tot dei soldi che decide poi lo streamer hai la possibilità di poter parlare tu puoi scrivere una roba che poi il bot il robot te la ripete in cassa in cuffia quindi spesso la leva magari per l'utente stesso è anche il potete parlare direttamente tramite una voce robotica magari tutti gli utenti che sono connessi sulla tua live sentono quello che io ho detto poi ci sta sempre lo strozzo che lo fa solo per divertimento dove fa il meme per l'approvazione del pubblico la trollata sì sì è tipo quello che ti urla nel fondo al palco ti urla una roba tutti si mettono a ridere stesso concetto sì è come se fosse appunto una stand up comedia cioè una stand up tu sei su un palco e c'hai sto pubblico virtuale ma come vengono monitorati i messaggi cioè nel senso ci stanno dei filtri ci stanno i filtri base dove tu metti che ne so ci stanno delle parole che non puoi dire assolutamente su Twitch tu metti quelle parole e poi all'imposti tu quindi sì 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 e poi la moderazione è automatica tramite un bot che riconosce quello che scrive e se c'è questa qua parola non lo legge ok ma te hai persone con cui collabori che ti aiutano durante le live anche ci stanno i moderatori in chat perché tipo come dice Twitch se tu non moderi la chat il tuo canale può essere buttato giù perché non puoi lasciare l'anarchia totale ho dei moderatori che se in chat succede qualcosa o scrive una cosa che non dono scrive cancellano il messaggio o bannano l'utente quanti sono di solito per un canale Twitch tipo il tuo con quel seguito e quel flusso io ce n'ho una decina una decina e attivi al momento sono sempre tre quattro almeno per live su utenti volontari li frusti o li paghi guardate dirò alcuni sì alcuni sono volontari perché c'hanno delle mansioni base dove mentre guardano fanno tasto destro banna all'utente poi ci stanno quelli da un po' più dove mi aiutano si tipo sto là e faccio ragazzi cambiatemi il titolo mentre Stock fa delle cose non c'ho tempo di cambiare il titolo alla live perché cambia il titolo durante la stream o tipo cambia categoria o aiutami a fare questo metti un timer lì allora poi anche pensate pagarli per chi stai effettivamente a fare un lavoro capito ma qual è l'utente medio che ti segue nel senso è una piattaforma che è davvero soltanto per i teenager under 18 oppure c'è gente più grande in realtà c'è un flusso continuo di persone perché tu metti caso io sto live domenica c'ho 2000 persone che mi stanno a guardare al momento però in realtà destra ai 2000 c'è un via vai infinito quindi destra ai 2000 in realtà so in totale durante la stream 70.000 persone 30.000 persone che vanno e vengono di base l'utenza cambia in continuazione proprio al momento quindi non riusciresti a definire magari un utente tuo medio vedi uno per strada una serata e dici questo mio mio sì è il tossico cioè di base se vogliamo parlare così se vedo un tossico dico vabbè magari forse mi segue un pischelletto da quartiere da comitiva normale normalissimo una serata sì perché poi parlando un po' del canale cioè ci sembra che Twitch è un po' un canale su Twitch è un po' un punto di ritrovo sembra un po' che tipo il ragazzo che star muretto c'è la chat quindi magari ti fai amicizia con gli utenti in chat e tu di base mentre guardi il stream puoi anche parlare con gli altri utenti non solo guardare e basta certo è super interessante ma la tua community è stata figa e così coesa perché secondo me ha un po' anche sostituito il concetto di muretto appunto ma guarda io ti dirò il ragazzo si rivede molto in questo discorso di collettiva e prende te magari anche come un fratello maggiore assolutamente infatti per me è anzi assurda che cazzo fratello maggiore responsabilità comunque non poche e come lo vedi il cambiamento dell'entertainment anche dovuto a questo proprio passaggio cioè digitalizzare un qualcosa che prima era fisico ed ora si crea tutto online comunque guarda io prima della quarantena lo vedevo un po' cioè lo prendevo un attimo con super ufficialità nel senso ok però dopo la quarantena ho capito che è una roba fighissima nel senso se tu sei impossibilitato a casa e ti metti in sottofondo la stream ogni tanto scrivi così c'è c'è solo un pro nel averci un muretto dentro casa capito quello che intendo è fighissima come cosa il seguirti fondamentalmente è super figo ma anche a me in primis cioè parlando ok da utente ma anche da streamer non c'è un cazzo da fare inizio non c'è una stream c'è sempre compagnia perché c'è la gente che conosco già in chat che mi scrive alla quale rispondo perciò fighissimo ma non pensi che è un po' pericoloso come si sta spostando diciamo l'intrattenimento dei giovani o dici in che senso pericoloso cioè è pericoloso che magari il ragazzino che c'ha tutta sta roba per comunque intrattenersi dentro quattro mura poi andremo a finire in un punto che veramente ci sarà quella patologia giapponese quello è inevitabile ma a questo punto iniziava proprio dalla tv penso che sia un problema già superato cioè vedi che comunque gli utenti che ti seguono lo fanno con la testa sì ma c'è chi studia poi Twitch appunto poi ognuno dà nel proprio insegnamento nel senso se io faccio live la mattina dico regà non saltate le video lezioni come dicevo in quarantena se dovete fare video lezioni fate video lezioni tanto io non è che faccio chissà che sì poi comunque le live sono tutte vedibili anche successivamente sì sì a voi c'è anche l'opzione cioè poi vedere i video le live ricaricate su YouTube o banalmente anche su Twitch c'è stata l'opzione dove rimangono salvate le live ma secondo te perché questa piattaforma ha preso così tanto piede ha attecchito così tanto su tutto questo meccanismo non solo giovanile perché ti ripeto io sono un ragazzo dell'età tua e ti seguo alla stessa maniera di un 17enne sì banalmente è la nuova tv cioè tu stai a casa e se non vuoi vedere la tv e i soliti programmi con quella roba c'è comunque l'opzione zapping su Twitch cioè vedi uno non ti piace quello che sta a fare passi all'altro io faccio sempre così perciò essendo una tv c'è intrattenimento infinito di qualsiasi genere tu apri la piattaforma e dici ok voglio vedere questo che gioca no voglio vedere questo qua che invece sta a fare interviste no questo che parla di roba alla fine c'hai intrattenimento assicurato ora ultimamente poi è uscita fuori la collaborazione dei diritti della liga non so se avete letto no no che la liga di calcio spagnola che faranno su su Twitch o Amazon Prime sì non ne so niente quindi si sta cioè sta veicolando poi tutto il tipo si sta diventando effettivamente la tv poi sì ma anche perché io lo dicevamo l'altro giorno qua nel co-working che fondamentalmente c'è il giovane il nuovo giovane quindi quello che andrà a vivere da solo si vorrà vedere le partite eccetera cioè 70 euro al mese sono un botto per farse Sky cioè quindi magari verticale che i canali poi dici Sky c'è una roba mega complessa cioè tu dici tempo che ti arriva al mo c'è una roba super complessa è bella non Twitch dove fai apro il sito mi abbono al canale magari per me non vedere la pubblicità cioè hai fatto due click e c'è stato no cioè Sky comunque è addirittura ancora per la disdetta la lettera raccomandata cioè c'è troppo c'è troppo capito ti mandare raccomandata a Sky a me da fastidio ancora andrà a pagare le bollette dico no no ma infatti avranno il sopravvento secondo me queste piattaforme ma sia per una questione di budget cioè infiniti e di comodità nel senso un miliardo di pure tanto quanto è facile fruibile apri e vede qualsiasi cosa prima poi sicuramente il vantaggio magari di Sky era che in televisione già magari in sito web sul computer è complicato adesso con le app e connessioni veloci veramente non c'ha più senso anche Sky poi si sta spostando su sullo stream con lo stream poi c'è Skygo che cazzo Skygo però niente a che vedere secondo me col potenziale che davvero offre Twitch niente proprio a che vedere ma già ci stanno alcuni canali che stanno a fare già le 24 ore cioè nel senso 24 ore su 24 live dove fanno format ripropongono roba e è super interessante voi economia dal per un periodo avete fatto quasi le 24 ore c'è stanno le maratone su Twitch dove fai lo streamer va live poi decide 24 48 12 anche se vuoi poi più soft dove fai un piano una scaletta che te dura appunto 24 ore e tu intratieni live costantemente 24 ore la streaming c'è stanno invece alcuni che già fanno i 24 ore cioè i 24 su 24 che durano da mesi e mesi dove si alternano con i vari streamer prendono degli streamer che coprono la notte tu fai il giorno chi fa il pomeriggio come un canale tv alla fine cioè tra gestisce poi è tuo capito tra gestisce totalmente da solo e il fatto che si prolunghi così tanto tempo comunque traspare nel tuo Twitch il fatto che comunque esce fuori un tipo di personaggio cioè un panetti molto ironico sovversivo diciamo anche a volte dici l'esposizione cioè quanto c'è veramente poi te persona te Simone nei tuoi live appunto poi dovendo prolungare anche per svariato tempo non solo giornalmente ma settimanalmente mensilmente un'estensione della tua personalità che poi viene messa a disposizione di tutti come ti posso dire la base Twitch ti impedisce proprio di essere un personaggio perché se tu sei live sei, otto ore al giorno per due anni cioè la persona dopo un po' ti scappa se sei un coglione capito quello che intendo perciò io do il cento per cento Simone Panetti su Twitch è Simone Panetti io ti parlo di tutto per un periodo ho pisciato sangue e questa è verità nel senso ho avuto troppo gin per una settimana bevo solo gin e niente acqua quindi se la piscia sangue e l'ho raccontato appena mi è successo l'ho raccontato ma come se stessi a parlare agli amici miei ok quindi e questa è una roba che poi fidelizza anche un po' un tipo real in show alla fine perché comunque se streami sei, sei, otto ore al giorno ovviamente sì loro vedono la vita tua non vedono te cioè ok poi anche nasconde alcune cose parlate quello che decidi te ma alla fine loro vedono te stesso cioè è impossibile saresti un mostro se mantieni il personaggio in live è una sorta di drum all show quello che poi sì un a mezzo un a mezzo ma ti vedono in qualsiasi condizione poi se sei incazzato perché poi tu se sei incazzato un giorno se sei felice se sei triste tu comunque ogni giorno devi andare live loro ti vedono in ogni condizione lo percepisce l'utente ma sì ma sempre e quanto ti senti cambiato da quando hai cominciato a streamare su Twitch? sicuramente la vita mia è cambiata un botto cioè la concezione proprio di quotidianità mia è cambiata perché penso perché io prima considero che vabbè ho fatto un sacco di lavori e il concetto di lavoro per me è ok lavoro 8 ore poi stacco e faccio le mie cose invece quando sei un content creator non stacchi mai di base 24 ore su 24 la mente tua è proiettata sul che faccio domani idee cose per crescere idee per intrattenere perciò non stacchi mai e psicologicamente sei abbastanza stressato io so che a metodo su quel punto di vista e basta ma è proprio collegandosi a quello che hai detto cioè devi pensare comunque a crescere no? perché poi ok fai contenuti fighi però poi se non cresci diventa pure nel senso sembra che stai a fare qualcosa per niente no? è pure un diciamo un KPI come chiamiamo noi marketers per capire se stai facendo bene o no sì sì cioè quali sono le strategie che secondo te funzionano per Twitch cioè apro il canale zero iscritti che faccio? cioè soltanto una questione di contenuti o ci sta pure roba? devi essere sicuramente predisposto all'inizio cioè oppure lo diventi comunque devi c'è la mente e il tanto carattere devi sapere anche riconoscere se poi interessa o no alle persone strategicamente devi portare roba nuova roba che stupisce devi fare un po' notizia tipo appunto noi siamo entrati con facciamo le live in giro con la cassa attiva dove possono mettere i link di YouTube e la musica in giro possono parlare mentre stiamo tipo succedeva che stavamo dentro le biblioteche e partiva la cassa a mille con la botta e diceva questa è una rapina e noi eravamo in soggezione perché la gente ci guardava o tipo a Bologna per strada partiva faccetta nera c'era la città dei comunisti e tu faci scusate non è colpa mia sta roba ha fatto notizia comunque hai dato quel genio comunque devi dimostrare un po' del genio e sicuramente su Twitch le persone si affezionano alla persona più a quello che fai cioè l'abbonamento non lo fanno al canale lo fanno a te lo streamer si affezionano al Simone Panetti al personaggio proprio all'essere umano come dicevi te con tutte le sfaccettature emotive ti faccio una domanda un po' scomoda in realtà non era meno prevista però secondo me tutto quello che ti pare ok cioè quanto si riesce a guadagnare su Twitch la domanda reale è quanti riescono a guadagnare su Twitch perché in realtà chi non conosce queste piattaforme soprattutto Twitch secondo me è una di quelle che se sei bravo è quella che si fattura di più secondo me sì sì la voglia cioè quella che ti può monetizzare uno che non conosce la piattaforma secondo me non saprebbe non si aspetterebbe le cifre che secondo me invece si riescono a fare ovviamente non ti voglio chiedere quanto guadagni se ti do una risposta sensata in realtà Twitch è un botto c'è un botto di meritocrazia nel senso se sai fare torna e a Magnacci siamo non tantissimi saranno una ventina in tutta Italia a Magnacci nel senso ci fanno l'affitto proprio quello che considera un lavoro per il resto saranno tantissimi streamer soprattutto dopo la quarantena che hanno scoperto la piattaforma è pieno e lo fanno tutti magari non so magari le cifre va a 300 400 ore al mese quelli nel medio poi se arrivi ai livelli più alti come a noi già parliamo delle cifre a 3-0 quindi già affitto te ci paghi la vita c'è anche chi sta nel top che si compra casa proprio quanto è il massimo che hai guadagnato con una stream? con una stream? sì è difficile perché poi alla fine non vado a col club e stiamo affetti in tasca tutto quello che volete però una stream il massimo guadagnato sono stati 800 800 dollari 800 euro una stream sola di 3-4 ore ma quanto è la fetta che si prende Twitch? dipende dal contratto che ti dà perché c'è diversi contratti tipo c'è il 50-50 e altri tipi di contratti per me si prende proprio la metà ma invece passiamo una roba un po' più leggera cioè leggera secondo me divertente qual è la cosa più assurda che è successa mentre streamavi oppure comunque correlata a quello che stavi facendo su Twitch ok assurda tutte le cose più assurde sono successe in giro mentre streamavamo in giro tassisti che tipo ogni volta c'era sto meme che tipo quando entrava entra il taxi partiva sta cassa tu dici la tassista evasore fiscale tutto così e il tassista ci è buttata fuori da cose quindi cose strane così dove li diciamo che la gente effettivamente risse proprio con la gente pure dove li diciamo io mi ci mettevo dei fisico con la gente che si è incazzata perché la riprendevamo o robe così questa è la roba un po' più strana ma è qualcosa di folle invece che magari ha fatto uno che ti segue cioè avrai dei fan spiegatati immagino episodi sì sempre legati al fatto delle live in giro c'era gente che ci seguiva per tutta Italia tipo noi facciamo live a Trieste gente da Pescara veniva a Trieste e poi un attimo ti intercettano dove stai sì sì a fuori un secondo cioè capiscono strillati seguono live stream sniper nel senso pure gente della città stessa capita spesso che vengono perché dicono ah stanno a Arbaretto vicino ricordo dove sta vengono là o i nomi delle ragazze o dei ragazzi che magari incontrate casualmente che non sono manco amici vostri poi c'è tre secondi dopo escono i nomi quella era amico mio c'è un'altra roba strana che è assurda dove ci sta soccalare le telegram dove ogni tipa che ci passa dietro in live o viene a di ciao in live anche se non la conoscemo loro trovano instagram perché poi tu è come se c'hai un super computer perché so migliaia di persone tu te punto in faccia frate due quattro sgamano chi sei subito chi sei do abiti sono dei pazzi psicopatici e quindi sta a stocanare telegram con tutte le instagram delle tipe che ci sono passate dietro assurdo gente che io non me ne ricordo di aver inquadrato in qualche modo sì sì che passa magari un anno assurdo è un potenziale incredibile cioè tu a noi tipo ci sono successi cazzi legali anche perché tipo succede che stiamo in un locale e il locale si incazza perché stiamo a far casino con la cassa così e la gente gli utenti vanno a mettere le recensioni negative al locale nel momento stesso in cui noi non gli dimo niente quindi c'è un cazzi legali su quello anche le famose shitstorm anche negli altri canali cioè voi avete un potere enorme un esercito un esercito live cioè se noi se tu hai punto ti dico ok dammi instagram e tu mi dai il nickname di instagram ok andate a commentare sta foto in un dieci secondi quattromila persone ti commentano la foto con la stessa cosa che io ho detto io te fa capito certo ma speriamo quel podcast magari se lo metti in share non succede se c'è una shitstorm potrebbe capitare potrebbe capitare sinceramente ma infatti da quello che emerge dai tuoi contenuti comunque diciamo fate un po' il panico in giro come anche gli altri streamer Luis Omiatol e diciamo quelli della vostra crew qual è il personaggio secondo te più folle con cui vorresti fare serata a Roma ovviamente non nei tempi del covid ma personaggio che non conosce nel senso che pubblico può essere pure il papa capito oddio guarda che strano ti posso fare la stessa domanda così almeno ho pure tempo per pensacce ok io direi non ci ho mai pensato io direi Jim Carrey io Brad Pitt io Morgan raga totale Morgan e Maramajonki insieme ok perfetto sicuramente pippo un botto con Morgan dove c'andresti? a Roma con Morgan con Morgan una roba un po' più privata fai un baretto un appartamento un baretto un baretto tipo quei baretti che c'hanno i privella capito? ok poi avete quel tavolino un po' in disparte si 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 verso i slot machine si si famo sta cena esatto famo sta cena così e poi finimo in serata con Morgan e Maramajonki tra l'altro bella fregna Maramajonki se vogliamo parlare di Maramajonki a me è da un po' è da un po' secondo me è l'età che fa tutto no no è proprio è quel carattere che dici una figa ok ma è assurda lei a parte il background che c'ha ogni volta che parla esce fuori che ha ha scoperto quello ha prodotto quello si ma sta dietro qualche cosa è onnipresente cioè c'ha quasi boh più di 70 anni guarda mi interessa non guardo l'età io si 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 no ma no però stai sul pezzo a quel punto comunque piace a tutte le età ma non è facile sta roba cioè nel senso magari i contenuti per dirti che seguono i giorni giovani adesso eh lo fai vedere magari quello che fai da in 50 anni e non capisci proprio di che stai a parlare infatti penso che sia pure per questo che l'hanno messa in mezzo a reality come X Factor no cioè per quello è verticale cioè in realtà non è Italia Sgonta ha fatto Italia Sgonta e X Factor e pure X Factor no? Sì quando c'era Fender eh sì perché è stata con Fender e poi comunque pure con Frank Matano sì ma poi lei ha iniziato ai primi X Factor sulla Rai già c'era dai cioè metà sulla Rai si ha fatti tipo tutti lo merita brava Mara Maionki King il giorno ce l'abbiamo a guarda il tuo felicismo no no anche di più ma è durata un bel po' in realtà sarà un annetto che penso a Mara Maionki ogni tanto eh potrei farti una domanda un po' più seria adesso posso passare sì sì no no posso ha detto è tutto adesso ok posso dire quanto c'è quanto c'è a lungo il cazzo nel senso vabbè quello magari privato sì 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 no volevo chiedere può sembrare da fuori ovviamente per chi non ti conosce che niente abbia un'etica in quello che voi fate soprattutto te nei tuoi canali e nei contenuti quali sono invece i valori che per te sono proprio imprescindibili nella vita digitale e reale guarda io di base do tutti i valori io cresciuto in strada poi i valori sono quelli rispetto quelle stronzate là perciò i valori che do alla fine sono quelli il fatto che sembra che mi manchi etica in realtà mi manca etica su me stesso cioè io il mio corpo non so come hai detto sì appunto non lo rispetto ma non così è una chiacchiera però di base rispetto per gli altri e cerco di darlo sempre come esempio non parlate male di queste persone tipo quando ci stanno stronzate tipo i dissing no io cerco sempre di dire non fate i pettegoli non fate le pettegole se volete risolvere le cose cercate di farlo in privato così perciò di base un insegnamento lo do su questo va bene ma anche se mi faccio male io e tipo mi obbriaco tutte le sere non è che dico fatelo pure voi cioè sempre in ogni live dico non fatelo prescindere la mia vita da quello che è cioè ci penso io a provarlo non fallo te perché te lo dico io quello che si prova a fare questa cosa questa è pure una base di quello che faccio cioè se io dico voglio parlare di una cosa con la gente che c'ho davanti prima la faccio voglio parlare del pissing mi faccio pisser in faccia certo e poi ti spiego perché ci sono passato e so se una cosetta ti sveglia la mattina e dice oh sai che oggi parliamo di pissing mi obbriaco tutti i giorni ok non è che ti dico cosa c'è de bello nell'ubriacast tutti i giorni dico cosa c'è de male chiaro perché conosco so che significa appunto perché comunque hai pure una grossa no so comunque dalle undici di mattina è stata bella sì sì certo non si beve intanto qui dai diciamo che noi siamo maggiorenni ma sì siamo adulti siamo adulti dai abbiamo soltanto i limiti delle piattaforme un po' come forse youtube rompe un po' più le scatole no 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 twitch rompe più le scatole cioè veramente il tempo che ti abitui alle linee guida ce vuole so tante le cose che non puoi fare adesso anche cioè non è che so tanto chiare quindi ci devi andare anche intuito dai ma quindi cioè a prescindere dall'etica che che limiti ti poni quando stream sul linguaggio tantissimo il linguaggio è proprio la base non puoi dire tutte le cose ma perché ti viene imposto dalla piattaforma o perché lo decidi te no dalla piattaforma perché io de base l'umorismo mio giornaliero è totalmente fuori controllo cioè io posso ditte una roba solamente per ride che però de base può essere anche pesante scherzare su cose pesanti però tipo il black humor su twitch non lo puoi portare mai e io ce l'ho un po' sta cultura del black humor capito quindi fondamentalmente i limiti che ti poni sono prettamente dovuti da quelli che ti dà la piattaforma perché se fosse per te sì potrei fare anche una sega in live capito ok quindi per te di base non ci devono essere cioè no 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 devono esserci perché se no appunto io mi farei una sega in live sarebbe sbagliato parliamo se chiaro ok quindi serve quindi servono anche per me come le regole nel mondo perché comunque se non ci fossero regole per strada non a caso prima volevamo fare la live pre podcast come facciamo quasi sempre e non è potuto perché ovviamente c'ho le live bannate dai instagram dico cose strane pure su instagram esatto esatto mentre parlavi cioè non so se siamo riusciti a far percepire veramente come funziona twitch cioè perché ieri io comunque la cosa che mi ha impressionato potrei dire pure l'architettura che ci sta dietro a un canale cioè pure prima abbiamo detto ma perché non stream un po' il podcast e ho detto è un po' complicato perché non c'ho il computer comunque ci sta un un'infrastruttura esatto un'infrastruttura dietro quindi pure cioè questo lo dico pure in favore dei creator che vengono sempre un po' considerati come i coglioni c'hanno niente da fare se mettono a prendere il computer è tipo una cazzata invece c'è c'è pure roba tecnica devi studiare immagino no ma tutto dal livello dal punto di vista grafico c'è la grafica nel senso ok io di base c'ho i cinque minuti prima delle live c'è la grafica dove c'è il timer dei cinque minuti sta appena iniziare la live in modo che la gente poi vede la notifica entra io inizio già con un intro con tot di persone già dentro le grafiche della transizione quando devo passare dal full camera al vi faccio vedere la mia camera e anche lo schermo anche là te la devi gestire tutta totalmente da solo e la regia in tempo reale è anche complicata e appunto ti ho detto c'è un un angeggio che clicco i tasti che ho impostato io e mi cambio la regia perciò sì è di base è un programma tv che gestisci te ma perché pure tutta la memologia dietro a ogni canale cioè tu c'hai i tuoi i meme facendo altri nel senso è una roba figa cioè è tutto super personalizzato veramente sta facendo un brainstorming durante l'intervista sì sì ok noi c'è un boomer della situazione no perché secondo me l'abbiamo spiegato bene però poi cioè pensando a quello che ho visto secondo me c'è una piattaforma completamente diversa da tutte le altre quindi secondo me vederla magari diamo un aiuto perché poi che ne so cioè tu devi pensare che devi fare una roba che se un po' assomiglia ai video editati in post produzione in tranquillità devi farlo tutto live in streaming è super complicato cioè una volta che ti abitui ok però inizia di base tipo il canale mio appena iniziato faceva schifo al cazzo era proprio brutto ci mettevo mille anni per fare una cosa tipo ah devo far vedere lo schermo cazzo non so come devo fare invece adesso devo fare il schermo proprio clicco il tastino ce l'ho ma io ieri quando ho visto una live registrata sì e mi dicevo ma questo è montato come cazzo fa a farlo a farlo live è assurdo cioè quando tipo passa vabbè comunque non spoileriamo poi magari riusciamo a attaccare parliamo di una roba figa così magari ai tuoi i follower fai vedere una cosa figa che dici vabbè come la regia di un format televisivo poi se ci pensi sì 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 facciamogli una domanda più di cui non parla più introspettiva vediamo se non so se è rimasto io ti volevo fare questa dello stronzo vai fai quella così lui la stream questa qua vai vai altrimenti se streamo tutto il podcast come te pare fa la review tipo il collegio sì sì guarda che per me è frequento se streami tutto il podcast poi abbiamo zero views noi su youtube no vabbè rimando vado parto con la domanda vai chi è la prima persona che ti viene in mente se ti dico la parola stronzo e questo è chi cazzo ne so mizio giulio no no ci serve il dissing vediamo il dissing il personaggio pubblico il personaggio pubblico lo stronzo se ne ne viene in mente social boom però c'è scontratto capito io non so io sono quasi un boomer tu sei manco chiesto social boom io comunque non so un vecchietto però comunque ho 66 anni 31 anni 31 anni ma non come stai no no social boom social boom ma niente è il Fabrizio Corona del web social boom social boom ma che cazzo succede guarda che ci sta meno male siete dei social boomer sì infatti vabbè il Fabrizio Corona fa gossip sul web allora il zio Giulio e social boom non valgono allora ti dico nessuno cioè stronzo di base tra quelli che conosco come sta a fare Gandhi di Twitch no non c'è nessuno di stronzo cioè capito nessuno è politico nemmeno un politico ah Liga 2 Liga 2 ernoizzo io frate eccolo e io sono stronzo ok io te base invece faccio il buono della situazione ti chiede invece a chi ti ispiri l'ispirazione la prendo sempre dal niente cioè da sempre proprio sulla musica faccio anche un po' musica non ho mai preso ispirazione da un artista per dirlo ma qualche birra ragazzi la sbiruas Simone ha bevuto sì mi sto pure pepisce addosso ma la trattento mi tiene attivo mi tiene bello agitato esatto la poi pure fa addosso comunque qua non stiamo su Twitch tanto già l'ho fatto su Instagram non si un palumpa che pulisco allora ispirazione come ho detto niente nessuno mai mai sul fatto della cassa mi condicevate chi era per dire lo streamer a cui vi siete ispirati nel modus operandi ovviamente non nei contenuti la cassa come ispirazione che era Andy Milionakis no 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 sì tutto il pubblico cioè tutto era in realtà Ice Poseidon ok americano ok credo americano poi l'ispirazione poi è stata presa dall'idea più che da lui in sé Giorgio ieri quando abbiamo pensato questa domanda dell'ispirazione hai detto sicuramente dice lui ora non lo conoscevo chiaro oddio non mi ricordo quel pazzo cantante che si dirà altra no era con che personaggio pubblico ti rivedi o quale potrebbe essere il tuo idolo io mi sono visto te come Gigi Allen ah ma dai hai detto Gigi Allen giusto giusto perché se distruggeva nei live ma non solo lui è troppo eh vabbè forse bello il concetto punk di Gigi Allen un punk tu mi sembri un punk fai live e poi scendi più a destra la gente la gente sarebbe più a destra abbottiate però troppo ricolleghiamoci ricolleghiamoci all'inizio perché sicuramente sarà stato condizionato dalla tua cicatrice infante esatto e il cranio esattamente comunque le birre potete portare dovete nel senso potreste no a parte tutto la curiosità che poi ho visto che hai fatto pure delle live su questa cosa sulla cicatrice sì che poi è evidente no perché due mesi fa Simone non ce l'aveva due giorni fa gli è comparsa che è successo è strano e poi tipo l'ultimo post di Instagram è tutto squartato voglio il numero dell'infermera di Tor Vergara no era non mi ricordo del cazzo però era simpaticissima capito wow la rivolio dov'è e de base il discorso è molto più complicato è molto più profondo e serio no perché tutti siamo pieni di cicatri io non ho un dito per esempio no no ce l'hai un dito no è riattaccato è riattaccato per quello poi voglio parlare di questa cosa poi ne parleremo noi abbiamo scoperto poi che l'altro giorno che Tom Mars ha la stessa cosa per vedere foto sua ha il dito così perché non lo piega infatti poi poi ci sono interessato a me ne parlavo esatto lui comunque è un pro perché è staccato cioè te comunque c'hai una cicatrice lui è tagliato un dito staccato e poi è riattaccato non è che rimani sempre fai capire un attimo come è successo privato tagliando il salame tagliando il salame lo tagliavi forte c'è una catana una motosega a Torianzo me l'ha data con due e di base tutto inizia da mezzo disturbo psicologico che vabbè c'ho da sempre che è una base del bipolarismo poi c'è schizofrenia dietro ma super controllata però ogni tanto mi vieno cioè mi prendono dei momenti in cui faccio delle cose alla quale penso tipo ok questa è una buona idea ma in realtà non lo è però al momento dico questa è una buona idea cose assurde come appunto spaccare una bottiglia in testa da solo a casa che non ha senso però succede e poi dopo dieci minuti mi rendo conto e faccio ma perché è successo e non me ne rendo conto beh il fatto che perciò di base mi sono spaccato una bottiglia in testa da solo a casa senza nessun motivo però ammirevole che tu queste debolezze e queste cose te lo dico proprio da persona che ti segue è ammirevole che tu le metta a disposizione e fruibili nei confronti di tutti perché secondo me molti ragazzi hanno anche più facilità a parlarne ma speriamo però che non ti stacchi in dito come Giorgio potrebbe purtroppo potrebbe succedere ma vabbè ci sto guidando vicino una volta stavo tutto ombriaco e non so per quello arrivai tendini ti dico te do solo sto consiglio ok consiglio da chissà quindi un orecchio un orecchio già i tendini in città per cazzo per cazzo che è un tendine unico vabbè ci sarebbero altri problemi ma che forse il tendine va in secondo piano comunque una volta stavo tutto ombriaco senza nessun motivo ho dato un destro a una macchina senza nessuno da solo e infatti ho un dito tutto storpio che muovo a malapena non riesco a piegarlo bene io ce l'ho mai in realtà sempre il basket ma questo è altri motivi ah ma io tutte le dita sono rotte per il basket tutte sì sì incredibile lo giocavi in realtà non ho mai giocato con squadra però il dato che davo con il mio cugino che giocava erano tutti più grossi mi passano la palla piavo la palla boh dito insaccato porco sempre così è malissimo sempre i passaggi tremendi e invece mi faccio un lato mi fa delle domande strane posso fare una domanda se potreste scopabbe una donna morta non morta nel senso scopabbe la morta ma tipo una donna dei altri tempi o comunque deceduta riportarla in vita per scoparla chi sarebbe? io già ce l'ho spara lei didi oddio lo sai che pur io ho pensato a lei lo sai che pur io ho pensato ti giuro su Dio ho pensato pur io vabbè non ci pensiamo ti giuro pur io vabbè ma hai copiato non è vero lui non ha risposto dove deve rispondere infatti non è che si inventa un'altra più stupida Sharon Tate che è stata uccisa da Charles Manson incinta quindi incinta lo ballesti no no però Sharon Tate la moglie di Roman Polanski se tutte queste informazioni manca l'avesse uccisa lui io sono stato io il mandante ero io il mandante Sharon Tate grande prega onesto ragazzi io penso che possiamo chiudere potrebbe essere pure magari la prima domanda che noi poi interveniamo nel suo stream e ci intervissi te magari potrebbe essere un'altra idea stavamo poco da dire stavamo da tutti i contenuti alla fine per uno che streama così per uno che streama così tanto secondo me più gli dai gli dai poi ha un certo un certo benvenga anzi più roba c'ho meno lavoro c'ho da far giorno capito esatto Simone grazie mille grazie a voi ci vediamo su youtube twitch fributare significa appunto prendere dei contenuti degli altri e mostrarli sulla mia stream perché è free content quindi io mi passo quanto abbiamo fatto del minutaggio c'è scritto la 47 io mi faccio una mezz'oretta così di totale rilassamento mi guardo il video lo lascio là perciò io godo solamente chiudiamo e ce la studiamo un attimo meglio perché secondo me abbiamo capito forse solo noi ma almeno non si è spiegato bene non si è capito bella regà grazie grazie a tutti ciao Simmo grazie godo